In questo momento sì, mi prendo un po' perché per 60 anni ho fatto io questo cardo e comunque è bello, grazie a Felice che continua questa tradizione, non solo visciarese ma per tutta la comunità religiosa di Visciami, sia come chiesa, sia come patertura, sia come città di Visciami, grazie che continua, il carro deve continuare e io l'ho fatto, l'ho fatto con cura per 60 anni, ci sono nate su quel carro e adesso che è passato mi è piaciuto continuare così, continuare su questa fede, continuare su quest'amore non solo per la Madonna ma per la città di Visciami perché Visciami merita tutto, anche questo è Visciami e le illuminazioni che sono state inquadrate comportano 1.280.000 lampadini, guardate una cosa spaventante, se vi guardate attorno, 1.280.000 lampadini accesi, rimane un quadro meraviglioso per Visciami e per la storia di Visciami, grazie a Visciami TV che mi avete intervistato perché in questo momento che è passato il carro, mi ha pianto il cuore perché per 60 anni l'ho fatto io e mi fa piacere che continuo, viva Visciami, viva Visciami e viva Visciami, grazie a voi!